tovaglioli buongiorno ben alzati ben svegliati tipo me che mi sono appena svegliata eccolo qua il primo indizio ragazzi abbiamo deciso di farvi un video indizio questa mattina l'indizio è molto semplice vi faremo vedere una carrellata dei nostri giochi perché voi vedete di solito soltanto questa parte ma ce ne sono anche altri in giro per casa nel frattempo vedrete in sullo sfondo l'elisa che spolvera il vostro premio come potete notare lo sta curando lo sta profumando lo sta disinfettando molto bene ragazzi allora questa è la prima parte guardatela bene qui ci sono giochi qui ci sono giochi qui dietro ci sono giochi questa è una seconda parte un po contro luce ma insomma non possiamo mica dirvelo attenzione perché questo è un lato ma guarda le razze di war angel questo è un altro lato è double fast ma ragazzi attenzione mi raccomando si astengano le persone che sono maniache dell'ordine perché in questa casa ma si gioca a tetris vige il caos qui c'è una bella carrellata anche di giochi vintage e tada qui ce ne sono degli altri dai ragazzi qualcuno di voi si è avvicinato non possiamo dire chi ma il vostro bellissimo premio è qui che vi aspetta ciao ciao